mamma perlachi ciao io e dorian siamo appena arrivati a casa il nostro appartamento è in questo corridoio ninna nanna ninna questa bimbo che la dà? oh chi mi dirà cosa devo fare con te minime? ciao bianca cosa devo fare con lui? davvero non sai cosa fare con i bambini? sono un bambino anch'io i bambini dormono la maggior parte del tempo quindi ci serve un lettino un lettino? ho capito ehi minime ehi minime ti troverò il lettino più bello del mondo aspetta qui è soffice wow è altissimo un letto a castello questo è bellissimo salta dentro minime oh no è troppo piccolo per lui non piangere oh un divano stroiate minime penso sia perfetto ciao ciao vorrei comprare questo divano minime sto piangendo oh no oh no sei caduto dal divano significa che non va bene per te lucky i bambini hanno bisogno di un lettino con le sponde guarda questo tipo di lettino si chiama culla ehii colla colla forza minime straiati ci sta e non cade e la colla e la colla dondola anche grazie ciao ciao siamo a casa minime con la colla perfetta per te tu divertiti io vado a capire cosa devo fare adesso è andato via ma dove dormirà dorian vado a vedere qui ci dorme il mio fratellone non c'è posto per dormire qui questo letto è troppo grande qui dorian dovrebbe dormire con maria dove può dormire dorian nel passeggino sei riuscita a trovare un lettino sì ci sono due passeggini mi piace quello giallo eh ma lucky dorian non può usare quello giallo perché? non gli piace il giallo no questo passeggino si usa seduti e lui deve sdraiarsi oh sarà sdraiato per sempre? no fino ai sei mesi dobbiamo mettere un lenzuolino bene dove sono le lenzuola? guardiamo in questo armadio sì eccole sapevo che erano qui un lenzuolino è pulito ed ecco la coperta oh sono arrivati sono arrivati ciao ciao benvenuto a casa dorian fammi vedere dorian fammi vedere dorian eccolo guarda è cresciuto oggi compie una settimana wow una settimana sta guardando il suo passeggino sembra comodo con la capottina mettiamolo giù sì è stanco qui tiriamo su la capottina così non gli darà fastidio la luce mettiamo il lenzuolino wow so tutto minime ci serve un lenzuolino bene eccolo qui adesso ti copro fatto si sta bene sotto le coperte facciamolo vedere a bianca bianca guarda sono stato bravo sì sei stato bravo lucky ben fatto ora non rimane che dondolare un po' i bambini mamma ria non devono fare il bagno sì in ospedale non abbiamo fatto il bagnetto a dorian ma quando si sveglierà gli faremo un bellissimo bagnetto sarai pulito come uno specchio ma per ora dormi ci vediamo alla prossima con una mamma per lucky per dorian una mamma per dorian ciao 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 ciao